Paolo, fai tutto a posto? A Catania stanno 30 gradi, voglio uno. Mamma mia, ma all'improvviso si è girato il tempo. Perché non ci sono Mirko e Perla? Ragazzi, Mirko credo che lavorava, Perla invece sta in famiglia. Ho già detto anche prima, Perla mangia troppo, deve fare la spesa prima di venire qui, però Perlina bella. Un abbraccio grande alla Sardegna, Grecia che fino ha fatto? Ragazzi, ma Grecia pensate che a volte non la trovavamo nemmeno nella casa, immagino una volta uscita sarà peggio di vittoria. Le perle di Maddaloni, Perla mangia troppo, vabbè Marco, vabbè.